La mattina di quel lunedì, 11 aprile del 1994, il sole splendeva potente nel cielo. Non c'era una nuvola, non c'era foschia, tutto era limpido e vittorioso. La trasmissione alla radio era andata bene ed io ero appena rientrato con la mia macchina nuova, una Honda Civic blu metallizzata, avevo pure trovato parcheggio proprio sotto casa. L'appartamento era in ordine perché il fatto di offrirlo per le riunioni mi costringeva ogni fine settimana a pulirlo e sistemarlo al meglio. Mi ero fatto la doccia, avevo scelto con cura come vestirmi, con il mio solito look, finto casual, che però fa tanto artista. Un ultimo ripasso allo scritto dell'esperienza ed ero pronto per uscire. Quando mi arrivò, improvvisa ed insolita per quell'orario, una telefonata, era una voce gentile di donna. Buongiorno, qui è il laboratorio di analisi crasi, parlo con il signor Antonello Dose. Buongiorno, mi dica. Signor Dose, il dottor Moscenti desidera incontrarla di persona. Può passare oggi pomeriggio, entro le 18? Ma certo, vengo subito, posso essere lì tra tre quarti d'ora. Di cosa si tratta? Quando viene poi il professore le spiega. A tra poco, buongiorno. Una settimana prima ero andato a fare degli analisi di routine, come facevo da sempre, con regolarità, ogni sei mesi. Non mi era mai successo di essere chiamato da un laboratorio di analisi. Forse dipendeva dal fatto che ero un nuovo cliente. No, la cosa non stava in piedi. Mi avrebbero solo avvisato che i risultati erano pronti e che li avrei potuti ritirare. Se un medico ti vuole parlare di persona, in genere, non è un buon segno. C'era qualcosa che non andava con la mia salute. Qualcosa che non poteva essere detto al telefono. Già ero leggermente ansioso perché avrei dovuto raccontare l'esperienza. Ora si aggiungeva questa novità. Già. Ma quale? Fu un inferno trovare parcheggio. Un inferno tanto quanto quello che si scatenò da lì a poco nella mia testa. La segretaria mi introdusse subito nello studio del professore che con malcelato nervosismo ed esagerata affettazione mi invitò a sedervi e mi disse senza troppi giri di parole Buongiorno signor Dose. Devo informarla che dalle analisi del plasma che abbiamo prelevato lei ha risultato sieropositivo al virus dell'HIV. Non si preoccupi perché tutti gli altri valori sono perfetti. Quindi nel caso si tratterebbe di un contagio molto recente. Ora dobbiamo ripetere immediatamente il test perché questi screening presentano almeno un 40% di false positività. Se vuole possiamo fare il prelievo subito o preferisce giornare domani. No, no, facciamolo subito. Risposi come un automa. Anche perché non stavo già più ascoltandolo da un po'. Quando, cioè, aveva pronunciato la fatale parola si ero positivo. Mentre mi galava il sangue mi chiedevo come era stato possibile. Dopo la morte di Piero ero stato così attento a prendere ogni genere di precauzione durante il sesso. Mai, dico mai, senza il preservativo avevo visto morire troppe persone per commettere una leggerezza simile. Le ho ripetuto sia il test Elisa che il Western Blot per essere più sicuri, aggiunse il professore riempiando due provette. Si sente bene? Stavo meglio prima, se devo essere sincero. Mi sbagliai, timido. I risultati saranno pronti tra una settimana. Mi accomiatò gentilmente, accompagnandomi all'ingresso. Tornai in strada. Ma era come se fra me e la realtà fosse calato un separio. Vedevo il marciapiede sporco. Vedevo circolare le macchine. Sentivo il sole caldo, molto caldo per essere metà aprile. Ma era come se fossi altrove, come se non appartenessi più a questo fenomeno che chiamiamo convenzionalmente vita. Ricordo un piccolo gatto che approfittava di un incarto lasciato da una generosa gattara vicino alla ruota di una Fiat 500. Ci lanciammo uno sguardo. Salito in macchina, era come se non fossi più capace di guidarla. Non sapevo cosa fare. Ricordo il traffico, i negozi, una signora con la borsa della spesa. Mi sembrava di assistere a un film. Lo osservavo, ma non ne facevo più parte. Grazie. 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 Grazie.